27 agosto ventunesima domenica del tempo ordinario che è gesù cristo per me per te chi è in gesù si racchiude un mistero che non è del tutto sconosciuto anzi dobbiamo conoscere sempre meglio perché è vitale per la nostra vita spirituale san paolo da testimone racconta la sua esperienza a me che sono l'infimo fra tutti i santi è stata concessa questa grazia di annunziare ai gentili le imperscrutabili ricchezze di cristo e di fare risplendere agli occhi di tutti qual è l'adempimento del mistero nascosto nei secoli nella mente di dio creatore dell'universo questo mistero manifestato dice ancora l'apostolo ai suoi santi è già presente nei testi antichi in particolare nel libro di isaia di cui leggiamo nella prima lettura un brano di carattere messianico gli porrò sulla spalla la chiave della casa di davide se gli apre nessuno chiuderà se gli chiude nessuno potrà aprire lo conficcherò come un piolo in luogo solido e sarà un trono di gloria per la casa di suo padre isaia 22 223 si può ben comprendere la difficoltà degli apostoli di fronte all'inattesa domanda la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo matteo riporta le loro reazioni risposero alcuni dicono che sei giovanni battista altri dicono elia altri geremia o qualcuno dei profeti disse loro ma voi chi dite che io sia ecco la domanda cruciale rispose simon pietro tu sei cristo il figlio del dio vivente joseph ratzinger benedetto sedicesimo nel primo volume della trilogia dedicata a gesù di nazareth la duplice domanda di gesù sull'opinione della gente e sulla convinzione dei discepoli presuppone che da una parte vi sia una conoscenza esterna di gesù non necessariamente falsa ma inadeguata e che ad essa si contrapponga una conoscenza più profonda legata al discepolato alla compagnia nel cammino capace di crescere solo al suo interno e continua è presente anche oggi con molta chiarezza l'opinione della gente che ha conosciuto cristo in qualche modo che magari l'ha persino studiato scientificamente ma che non l'ha incontrato di persona nella sua specificità e nella sua totale alterità carl jasper affiancato gesù a socrate buddha e confucio come uno dei quattro uomini determinanti riconoscendogli con ciò un significato fondamentale per la ricerca del giusto essere uomini ma gesù in questo modo risulta uno tra gli altri all'interno di una categoria comune a partire dalla quale essi possono essere spiegati anche limitati oggi chi dite che voi chi dite chi dice la gente che io sia oggi è in valso l'abitudine di considerare gesù uno dei grandi fondatori di religioni nel mondo ai quali fu donata una profonda esperienza di dio essi possono così parlare di dio agli altri uomini a cui questa disposizione religiosa è stata negata e coinvolgerli per così dire nella loro esperienza di dio in questa concezione continua papa benedetto sedicesimo resta tuttavia il fatto che si tratta appunto di un'esperienza umana di dio che rispecchia la realtà infinita di dio nella dimensione finita e limitata di una mente umana e che pertanto è sempre e solo una traduzione parziale del divino determinata anche dal contesto spazio temporale all'opinione della gente si contrappone la conoscenza dei discepoli che si manifesta nella confessione di fede l'evangelista matteo esprime così la confessione di fede di pietro tu sei cristo il figlio del dio vivente che fa seguire le parole del primato gesù replicando disse beato sei tu simone figlio di giona perché né la carne né il sangue te lo hanno rivelato ma il padre mio che è nei cieli e a te dico tu sei pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa a te darò le chiavi del regno dei cieli tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli la chiesa cattolica è consapevole di avere conservato in fedeltà alla tradizione apostolica e alla fede dei padri il ministero del successore di pietro e professa che questo ministero e ministero primaziale del romano pontefice non sono mancati nella storia del papato errori umani e mancanze anche gravi pietro stesso il primo papa riconosceva di essere un peccatore pietro uomo debole fu però eletto proprio come roccia proprio come perché fosse palese manifesto a tutti che la vittoria è soltanto di cristo e non risultato delle forze umane quanto è rassicurante risentire oggi quelle parole le potenze degli inferi non prevarranno noi non abbiamo idea di quanto siano forti devastanti distruttive le potenze degli inferi ma cristo è il vincitore finale e il baluardo che ha posto nel mondo è la sua chiesa così fragile ma indistruttibile buona domenica a tutti